Sono giunti a termine i lavori di adeguamento sismico, energetico, impiantistico e funzionale della Scuola dell'Infanzia di Villaripa, che rappresenta la prima scuola ad essere stata inserita nell'ordinanza Teramo. E oggi taglio del nastro in vista della ripertura, una scuola pronta ora ad ospitare i piccoli studenti nella massima sicurezza. Una giornata di festa, la prima scuola dell'ordinanza Teramo che viene riconsegnata ai nostri bambini, perché è loro che dobbiamo ringraziare più di tutti per la pazienza che hanno avuto, ovviamente con le famiglie, con gli insegnanti, nel corso di questi anni. Viene riconsegnato un gioiello, questo è veramente un gioiello ricostruito, prima scuola dell'ordinanza Teramo, un segno anche di speranza e di fiducia di una ricostruzione che è partita e su cui si sta lavorando alla cremente. Abbiamo già avuto 20 iscritti, segno di una vitalità comunque dei territori frazionali, di una frazione straordinaria e soprattutto di uno spazio che viene riconsegnato ad una comunità che può consentire ai suoi ragazzi, ai suoi bambini, alle future generazioni veramente di ripartire. I lavori avviati nel mese di marzo 2022 hanno avuto come costo complessivo circa 450 mila euro. Il livello di sicurezza è quasi superiore ad uno, che quindi ci fa veramente stare tranquilli. Il finanziamento è di 350 mila euro, ma poi l'amministrazione comunale ha voluto, ovviamente come fa per tutte le attività che sta svolgendo da qualche anno a questa parte, è voler mettere dei finanziamenti propri per poter veramente arricchire e abbellire non solo le attività connesse alla scuola, in questo caso l'accesso che è stato allargato, sono state create delle migliorie che hanno comportato un finanziamento da parte dell'amministrazione comunale di ulteriori 100 mila euro. Un lavoro frutto anche della stretta sinergia con la struttura commissariale Sisma 2016, che negli ultimi anni ha permesso di accelerare di molto gli interventi. Mi auguro che possa essere l'inizio di una lunga serie di attività messe in campo dal Comune di Teramo in termini di ricostruzione di edifici pubblici, che appunto sono molteplici, perché è giusto ricordare che oltre a questa scuola ce ne sono ulteriori 17 finanziate dalla ricostruzione post-Sisma 2016 per un importo pari a 60 milioni di euro, quindi le attività da mettere in campo saranno molteplici e mi auguro che questa giornata possa fungere da start-up per il prosieguo.